Una maggiore vigilanza sugli atti amministrativi. Sembra questa l'intenzione che ha portato la Giunta ad approvare la Costituzione a Palazzo di Città del Comitato dei Garanti. Sostanzialmente il Sindaco Lucio Greco e i suoi assessori hanno voluto conformare l'ente a ciò che già si verifica in altri contesti istituzionali. Il Comitato avrà piena competenza di intervenire con pareri obbligatori su possibili casi di irresponsabilità dei dirigenti dell'ente anche con l'irrogazione di sanzioni. Un organo di controllo che tra le altre cose sembra rispondere ai moniti più volte arrivati dalla Corte dei Conti. La necessità di implementare i controlli interni del resto è stata rilanciata dall'Avvocato Greco che negli scorsi mesi ha rilasciato dichiarazioni pubbliche vehementi rispetto a procedure seguite dai dirigenti dell'ente che però non hanno trovato effetti pratici. Il Sindaco davanti a casi di questo tipo non ha escluso l'irrogazione di sanzioni qualora maturassero gli estremi. Ora arriva il Comitato dei Garanti che in base al regolamento sottoposto alla Giunta sarà composto da tre membri. Il Presidente verrà individuato dal Sindaco all'interno di una rosa di almeno tre candidati presentata dalle rappresentanze sindacali ammesse alla contrattazione collettiva integrativa per il personale dipendente del comune appartenente all'area della dirigenza e possono essere scelti tra i magistrati o avvocati dello Stato in quiescenza, tra i segretari generali o dirigenti della pubblica amministrazione anche in posizione di quiescenza o ancora tra i docenti universitari in materie giuridiche o aziendalistiche o tra gli avvocati con anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni con esperienze qualificate in diritto del lavoro. Così riporta il testo del regolamento. Il Presidente in ogni caso sarà un esterno così come esterno scelto sempre dal primo cittadino a seguito di un avviso pubblico sarà anche un altro componente verrà individuato tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza professionale per almeno un quinquennio nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico all'interno di una rosa di candidati che hanno presentato la propria candidatura a seguito di apposito avviso pubblico. Il relativo procedimento è curato dal segretario generale. Così riporta ancora il testo approvato dalla Giunta. l'individuazione del terzo membro invece avviene attraverso la conferenza dei dirigenti del comune che lo elegge su convocazione del segretario generale. Niente politica nel comitato almeno quella attiva non ne potranno far parte soggetti che rivestano in carichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza proprio con queste organizzazioni o che abbiano rivestito in carichi o cariche che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. I garanti rimangono in carica per tre anni. Il regolamento è stato approvato dalla Giunta nelle stesse ore dell'ufficialità della nomina del terzo componente dell'organismo indipendente di valutazione che completa l'organo di controllo al momento l'unico pienamente attivo a Palazzo di Città. La scelta in questo caso è ricaduta sul commercialista Ignazio Brucia.